Mi fa piacere salutarvi, salutare tutti e dirvi del mio rammarico per non essere potuto venire lì. È un po' complicato adesso per come sto, riuscire ad andare in tutti i posti dove è necessario, importante e utile andare. Io intanto sono certo che questa giornata di domenica, questa associazione che nasce aggiunge un tassello nuovo importantissimo al grande mosaico di quelli che sono coinvolti, che si adoperano, che sono impegnati nel mondo della salute mentale. E in particolare devo dire che un'associazione come questa, che vede immediatamente, non coinvolti, ma attori, attori importantissimi, come li ho sempre pensati da quando ho cominciato questo lavoro, un'associazione come questa sicuramente produrrà una crescita sia della conoscenza, della natura, del che cosa accade quando si attraversa l'esperienza di strumentale, sia sui servizi, sulle forme delle organizzazioni, credo che sarà certamente uno dei punti importanti dell'attività che voi farete. Credo che voi sapete che io ho cominciato lavorando con le mamme e i papà dei figli che non stavano bene. Adesso cominciamo a lavorare anche con i figli delle mamme e dei papà che non stanno bene e credo che sia un qualche cosa di straordinario, che avevamo anche pensato un tempo, ma si sta realizzando e io credo che bisogna essere molto grati a Stefania e a quante altre persone si adoperano su questo fronte. Approfitto anche per dirvi che l'impegno vostro, che sarà sicuramente un impegno di conoscenza reciproca, di sostegno reciproco, di condivisione di quando voi avete vissuto, avete dovuto attraversare, ma anche sarà una possibilità ecco di crescere nelle vostre soggettive, come dire, consapevolezze. Sarà anche un momento di impegno maggiore per quanto riguarda, io dico, le politiche della salute mentale, la necessità di non lasciare andare questo declino che assistiamo, insomma, nel campo della salute mentale. Quindi approfitto per ricordarvi che già c'è da qualche mese in Senato una legge, una legge che vuole radicare, rendere ancora più forti i principi della legge 180, come si dice, ma anche indicare strade, percorsi, dispositivi che rendano più omogenea, insomma, la risposta della salute mentale. Io conto naturalmente di essere continuamente uno dei vostri, sono certo che ci vedremo, che avremo modo di parlare di tutto questo, delle nostre esperienze, e adesso non faccio altro che dirvi che mi dispiace non sentire la presentazione del libro di Carlo, che è un bellissimo libro, che entra pieno in questa faccenda, in queste questioni che voi affrontate, e niente, prima o poi ci vedremo, ciao a tutti.